occorre una strategia di policy che combini insieme più elementi e più strumenti andando a interessare sia il profilo individuale della disciplina e delle tutele del rapporto di lavoro che quello familiare in generale si può rilevare che l'assetto di welfare italiano fatica a rispondere attualmente al problema dell'ingware poverty in quanto sbilanciato nettamente a favore dell'occupazione standard quando invece il mercato del lavoro è caratterizzato e spinge verso il ricorso a molte altre tipologie di lavoro sempre più flessibili e un altro un'altra politica efficace potrebbe essere quella diretta a ridurre l'incidenza dei nuclei familiari monoledito e incrementare quindi l'intensità lavorativa a livello di nucleo familiare a tale proposito si deve tenere presente che questo almeno nel nostro paese è legato in larga parte alla sottorappresentazione delle donne nel mercato del lavoro e questo dipende dall'ineguale distribuzione delle responsabilità familiari tra uomini e donne ad esempio si tenga presente che tre donne su dieci giustificano la propria essenza dal mercato del lavoro per motivi familiari e che circa l'undici per cento delle donne una percentuale molto alta rispetto alla media europea del 3,7 per cento dichiara di non aver mai lavorato per occuparsi dei figli questo per ribadire come sarebbe opportuno implementare le politiche familiari di sostegno economico alle famiglie e le politiche di childcare per sostenere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro garantendo cioè un maggior accesso ai servizi per l'infanzia ma anche prevedendo misure ad esempio per favorire una maggiore ridistribuzione delle responsabilità familiari magari incentivando il ricorso al congedo parentale anche da parte dei padri e poi per quanto possa essere ancora difficile prevedere quale sarà l'impatto dell'emergenza attuale alla fine del blocco dei licenziamenti sarebbe in ogni caso utile un rafforzamento delle politiche attive delle politiche di orientamento al lavoro e di light on learning in quanto garantire un maggior accesso alla formazione professionale può essere importante anche per una progressione nella carriera lavorativa infatti nel nostro paese la spesa informazione ancora troppo bassa rispetto agli standard degli altri paesi europei e queste misure potrebbero produrre effetti molto positivi anche nel senso di limitare nel tempo il protrarsi di situazioni di povertà e vulnerabilità quindi in conclusione in generale quello che sarebbe necessario mettere in campo è una strategia chiara coerente mirata contro lingua poverti un approccio globale che sostenga l'accesso a impieghi di qualità ma anche adeguate forme di sostegno al reddito